È tempo di spaventare i bambini con un nuovo uomo nero. Ah, weir! Ma fortunatamente c'è un grande fratello che ci salverà. Oh, guarda, due vici sono lì. Quel figlio di Putin. That son of a bitch. For a bogeyman to work, he must do the following. L'uomo nero deve fare le seguenti cose per impaurire la pagora. Invade other countries and conquer the world. Invadere altre nazioni per poi conquistare il mondo. No one can stop them. Nessuno può fermarli. But luckily there's a solution. If we unite our forces together, we can stop them. Ma se ci uniamo andrà tutto bene. At the end we always kill these sons of bitches. But they never seem to understand. Spuntano fuori come funghi. Ma il bene trionfa sempre. Putin, non ce la farai mai! Bats are open for the new bogeyman. Who you think he will be? Sono aperte le iscrizioni per il prossimo uomo nero. Possono partecipare anche le pagore. Baaaaaah!